Capitolo 4 Allora, Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo che ebbe digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, accostato, si gli disse, se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre divengan pani. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio, e gli disse, se tu sei figliuol di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse, egli è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo, e la loro gloria, e gli disse, tutte queste cose, io te le darò, se, prostrandoti, tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, ed a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui, e lo servivano. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, e, lasciata Nazareth, venne ad abitare in Copernaum, città sul mare ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon, e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre, ha veduto una gran luce su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce sellevata. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Or, passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me, e vi farò pescatori d'uomini. Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca, con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca, ed il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoge, e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E la sua fama, si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità, e da vari dolori indemoniati, lunatici, paralitici, e dei ligueri. E grandi folle lo seguirono dalla Galilea, e dalla Decapoli, e da Gerusalemme, e dalla Giudea, e d'oltre il Giordano.